Ed eccoci qui nuovamente da Palazzo Mezzanotte, Alexandra, tanti gli ospiti che ti sto portando questa sera. Ho qui al fianco Alessandro Barbieri, CEO di Reloi, grazie per essere qui con noi, in rappresentanza del mondo dell'innovazione e della leadership che sarà una delle categorie che verranno premiate questa sera. Innanzitutto, dottor Barbieri, di cosa si occupa la sua realtà? Noi siamo un'agenzia che ci occupiamo di loyalty e CRM. E che ruolo ha l'innovazione per voi? È un elemento imprescindibile nelle nostre iniziative in quanto l'innovazione è un elemento caratterizzante tutto ciò che afferisce al marketing. Quindi sicuramente la tecnologia è stato un elemento abilitante di questa innovazione, ma la creatività rimane l'elemento centrale. E che ruolo hanno le risorse umane nel suo ambiente? È fondamentale. Ogni qual volta si lavora con la creatività, concetti come quella dell'innovazione, le persone, le risorse umane sono determinanti ai fini del raggiungimento di un obiettivo che è legato appunto a fare cose diverse, nuove e soltanto dalla mente delle persone, delle singole risorse, che può arrivare nel concetto di lavoro di squadra questa innovazione. Come si sente rispetto a questi Le Fonti Awards? È la sua prima volta? È la mia prima volta e devo dire che l'apparato che si può ammirare è veramente molto molto importante. Insomma, sicuramente molto impressionante. Bene, ci fa doppiamente piacere. Io ringrazio il dottor Barbieri per essere stato qui con noi, la lascio andare perché stiamo veramente per cominciare e non mi resta che lasciare la linea a te, Alexandra.